Nome del Popolo Italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia del procedimento penale ai carichi di Tizzani e Antonio ha pronunciato la seguente sentenza. Visto l'articolo 605 del Codice di Procedura Penale, conferma la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Assise sul lato di Bergo, in l'anno 23 dicembre 2020 nei confronti di Tizzani e Antonio, impugnato dal pubblico ministero, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Prudenza e paura. Buonasera.